Ciao ragazzi, benvenuti ben trovati, sono il mio canale, io sono Magrus E' incredibile il numero di giochi con supereroi che sta uscendo in questo periodo E mi rendo conto che non è neanche l'inizio Naturalmente com'è stato il video come stiamo a mettere un po' c'è su, un bel commento, un bel piacere Siamo sempre qui su Lego DC Super Villains Partiamo Partiamo, partiamo Ciao Siamo inizionati in cerca di manufatti alieni Per degli scopi malvagi, naturalmente State sempre allerta e chiamateci per qualsiasi cosa di sospetto o di anomalo Qualsiasi Ultramen, io ne ho più ultrashen Non mi passa per la testa che forse chiedere a tutti questi sciocchi terrestri di chiamarci per qualsiasi anomalia Magari è una brutta idea Dai, sul serio Potresti aver ragione, sai Johnny? Beh, i tuoi amici si sono fatti mettere in una roccia lasciando fuggire Black Adam Che cosa? Prima Power Ring e ora anche tu? Power Ring è bello I cattivi di qui non sarò affatto giocando pulito Quando li sconfiggiamo I normali si bevono questa mascherata Per continuare la ricerca siamo costretti a farlo Questo lo dici tu Io dico di trovare questi tizi e far vedere loro chi governa il pianeta E ricordati, ci hanno promesso questo mondo quando troveremo il manufatto Ne ho abbastanza di fare bocchi dell'acqua Essere buoni è così... Noioso Ah, pensavo se fosse... Oh, come pizzichino? Molto interessante Ah, 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 eccellente A quanto pare è ora di fare un lungo viaggio Immagino che dovremmo tornare alla base Esatto, mia cara Certo, vi precediamo Ci rivediamo dopo alla base Ok, chi siamo? Sinestro e poi Black Adam E basta Ok, quindi siamo soltanto noi Vabbè, possiamo volare Quindi possiamo andare veramente molto ma molto più veloce Ok, ci dovremmo essere Dai ragazzi, un altro po' più avanti Vai, vai, non ti fermare Black Adam Non avere paura Oh, cavolo, oh, cavolo Oh, cavolo Che cavolo è sta cosa? Vai Continua, continua Con cautela, ma continua Davvero? Ma dai Affascinante La ringrazio Incredibile Hai registrato tutto? Che intervista interessante Il testimone ha visto un membro del sindacato fallire sventando un crimine Perché mai Superwoman avrebbe permesso a Harley Quinn e al Joker Di restare a piede libero Non è certo il modo di fare di un supereroe No Nel modo più assoluto, no Sta succedendo qualcosa di grosso qui E dobbiamo scoprire di che si tratta Hai registrato tutto? Non ha registrato niente ragazzi Questo non registra niente Ti ho beccati finalmente È arrivato il momento di fare quello che avremmo dovuto fare fin dall'inizio Vai ad acchiapparlo Ehi Lascia il mio bastone Esattanto che è arrivato il soggetto Che succede qui? Ah ah Friscata Minuta Harley no No Haimi cara C'è un mostro gigantesco che si aggira in mare Ci serve un risquato Puoi ospitarci nel palazzo del fato Finché non avremo scoperto cosa vuole Oh sì ti prego Aiutaci Cosa? No Il mostro marino si è appena preso il palazzo del fato e la mia amica E adesso voi mi darete una mano a recuperarli Non è vero? Mi piacciono questi due personaggi Che nome per un calmaro? Ah abbiamo altri ospiti Sono tutti i tuoi calmi Ah Rimpiangerete di avermi seguito Fili bustieri di bassa lega Nessuno può rapire i nostri amici Arrenditi re del mare C'è posto solo per un re degli oceani E quello sono io Oh Allora Resquare è bellissimo Ma anche Black Panther Anche è bellissimo La vostra preziosa base Ah già Stavo schivando adesso Vabbè Inclusi i vostri amichettini Lo stiamo già distruggendo Pariché Ma è scarso Oh squalo Vabbè Le squalo non dovremmo avere problemi Hai paura? Penso voglio lasciare al suo cucciolo Il resto del lavoro sporco Ok Qua non so se dobbiamo fare qua Tensione E dai che lo squalo Non ci dovrebbe dare problema Per quanto ammiri il tuo entusiasmo Amico mio Sconfiggere questa creatura Potrebbe richiedere un piano più elaborato Ok qua Vediamo se riesco a rompere questo No Allora questo non riesco a rompere Vediamo se ci riesco con Le squalo Non so nemmeno Allora Ivy non è che mi daresti Qualche indizio Ok Attenzione qua Questi pensano che si devono rompere Ok no Non è da questa parte Abbiamo un po' di problemi Allora io inizierei Ivy perché te ne vai dall'altra parte Costruisci tu Perché secondo me Ti vedo un po' più decisa Nella gestione delle cose Questi qui li vedo un po' imbranati Attenzione allo squalo Attenzione Certo che questi squali Abbiamo staccato la testa Allo squalo Vabbè Vai gira vai È un minikit No Pensavo di aver sbagliato Ci potrebbe servire Sta roba Ma penso proprio di sì Attenzione Ma stai partorendo squali Con la pala però In casi come questi Voterei fiori Conchiglia No Ferla Abbiamo Mi piace Mi piace il plurale Mi piace Ma restia controllando quel polpo Con la telematia Non avete alcuna speranza Dove sta? Oh attenzione Raga però voi siete grossimo Vogliamo far fare tutte le donne Dai 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 Bello bello Ora squalo Vedo la potenza Però eh Branatino Ma lo vedo la potenza Anche ora Forse deve rompere sta cosa Vero? Vediamo un po' se la rompe Aspetta Hanno unito le loro forze Forse c'è qualcosa qui vicino Che possiamo usare Per sconfiggere entrambi Sì ma mi spieghi Perché te ne stai sempre laggiù Ivy Io non ti capisco Ti dico proprio la verità Io penso che qua Dobbiamo fare qualche cosa Ivy Ecco Te l'ho detto Tu sei la mente I bracci sono loro I bracci I bracci è loro Vediamo un po' se qua Riusciamo a fare qualcosa No Ero convinto che qua Potessimo fare qualcosa Invece niente Allora Allora non posso manco mirare Allora di qua Forse dobbiamo rompere questo No Attenzione Attenzione Ok E allora Come dicevo io Bisognava Aspettare che ci lanciassero Qualche cosa Fiore completo Vai Ivy Vai Ce la dovresti fare Costruiamo Come mai Hai bisogno di lui Le squalo Ah ok La miseria La miseria Ma ce ne sono troppi Eh raga Questo sta part Aspirisce squali Con la pala Vai Lo facciamo Non so cosa E' una mina E' una mina Il nostro amico Il nostro amico sta cercando Di squagliarsela Guarda un po' Chi c'è qui Che carini Siete venuti a salvarmi Direi che potete parlare Forza Forza E allora Ok Vieni piccolino Che ti faccio strada Ma c'è un po' Ma c'è un po' Di difficoltà Qua dentro Entro Ok Come nuoti Strano Sui squalo Ma come c'è la maschera Non sapevo Che gli abitanti Di questa terra Fossero così sciocchi Credo che presto Imparerai molte cose Però sei offensivo Però eh No Dai Ora capirete Perché sono io Il camminatore Degli oceani Siete in un mare Di guarda Oh 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 Che è quel petto Ok Sì sì Colpisci le squadre Le due più forti Vai Ok Vai vai Andato Forse è stato quello più facile Da battere Vi dico la verità Finire per essere Moltrattato Da malviventi marini Ciao ragazzi Ciao Volevi ancora nascondere Qui dentro Molto spiritosa Hai recuperato la tua amica Quindi non ce ne andiamo Non è simpatico Tipo black man Però è bello Come personaggio Ci apre un bel veicolo Speriamo di riuscire a bloccare Tutti e due Oh già finito Porca paletta ragazzi Il livello è stato brevissimo Questo qua Cerca re del mare Vabbè Ok Che strano Infatti pensavo che fosse più lungo Generalmente Vabbè a volte capita Che qualche livello è un po' più breve Ce ne siamo cavati comunque Abbastanza bene L'uomo d'acciaio Il trofeo L'abbiamo sblocchiato Non abbiamo beccato niente Lo sapete già Sono curioso di vedere Che cosa abbiamo sblocchiato Tra l'altro poi Non ho ancora ben capito Come si possono sbloccare I veicoli Perché in giro Ne ho visti veramente tanti Tipo per esempio Questo qua Di black man Che non sarebbe male Da sblocchiare Poi è normale Che dobbiamo vedere Sempre se lo blocchiamo Personaggi Ok Black man L'abbiamo sblocchiato Resqualo pure Dovrebbe essere un altro Soltanto Ah Il re del mare Giustamente Me l'ho scordato E poi quello Segreto Perfetto Perfetto Anche ragazzi State sempre tranquilli Perché cercherò Di sempre Di portarvi ogni giorno Il video Anche se ci sono Molte serie Che incalzano Adesso Mettete come passate Il video come se Mettete un buccio Su Un bel commento Un bel mi piace Ci vediamo Se lo prossimo Sbio Bye